Anticipazioni Bittersweet, trama puntate, lunedì 22 luglio 2019. Ferit deve ricevere degli ospiti italiani e chiede a Najli di cucinare per loro, a bordo del suo yacht. La chef rifiuta, sostenendo che tale incarico non è previsto dal suo contratto. L'architetto allora le propone un bonus extra nello stipendio. Najli così accetta e prepara del sushi per gli ospiti italiani. Tutti i clienti di Ferit restano sorpresi molto positivamente dalla cucina di Najli. L'architetto è orgoglioso di rivelare agli ospiti che la chef lavora per lui, ma la stessa lo corregge e spiega che si tratta di una cosa momentanea, poiché lei presto aprirà un suo ristorante. Ferit allora la chiama da un'altra parte per parlare in privato con lei e le chiede di essere sincera. Grazie.